Oggi vi farò vedere ragazzi un glitch che ho scoperto ieri per caso Praticamente non è proprio un glitch perché penso rientri anche nelle regole del gioco Non c'è niente di male a quello che stiamo per fare Anche perché lo facevo anche sul 4 ma non ci avevo pensato a farlo anche qui Comunque, la tecnica ragazzi, la mega tecnica quale saranno vi faccio vedere Andare qui al White Springs Resort E' una figata raga, bisogna essere veloci Quindi io vi consiglio di mettere tutte le abilità che avete, io sono salito dei 10 livelli stanotte Ma ho capito come molte persone sono arrivate lì allo 60 con niente Subisce il 15% meno dagli attacchi in mischia Questa è ottima questa cosa Perché noi dovremmo portare fuori una marea di goal che ci inseguiranno Perfetto E quindi più resistore se riusciamo a prendere il Wendingo sotto è anche meglio Poi a quel punto si va Sento delle voci, sto a flusciare Due colpi di fucile, vabbè ci basteranno Ce le faremo bastare Però mi metto pure un'arma A granata ce l'ho Ciao grande Guarda mi serve che state lontani dal White Springs Ciao Mattia Stavo a dirlo anche nella live Sì bravissimo Guarda famo anche gruppo perché così prendiamo i punti Però ora mi faccio inseguire da tutti i goal Ok Ah porca trota No Stanno sci tutti Aspetta vai via vai via Porca trota Già stanno sci tutti Comunque la tecnica sarà Stanno a seguire Stanno a seguire lui Allontanati Allontanati Venire qua Farsi vede da tutti i goal Vedete che robetta Oddio se beccamo pure il Wendingo Allontanati tu Io ne vedo Ah ecco Ciao bello Eddi tutto a posto Pure st'amici Frizzati male Che ora ci stanno inseguendo tutti Ciao belli Ciao grandi Uscite Sono una mappa Una spaghettata Tutti insieme Poi quando fate In per gruppo Io l'altro Ieri notte mi sono andato a pia pure il Dead Club Però vabbè Cambieremo server E ci proveremo Vi mettete qui Aspettate che arrivano proprio tutti Mamma mia quanti so Oh madonna Una farm di goal Aspettiamo che arrivano tutti Aspetta perché poi se state qua sopra Se ne vanno Quindi Se mi rompono una gamba E' finita Infatti mi sono presa l'abilità Che ho le ossa più dure Ossa di titanio Belli Stiamo per fare una marea dei punti Regà Aiuta Siamo morti Però la cosa bella E' che prendiamo ancora i punti esperienza Quindi Bella a tutti regà So volato Ieri mi ha dato distruzione totale Ciao Super Davide Ciao belli 1300 punti esperienza Regà Con una botta E' un proiettile Come la vedete come tecnica Belli Non ve spostate dai server Perché tanto io li cambio tutti Mo cambio server pure Perché devo Ogni volta se cambia server Le auto si ricostruiscono E i mostri si ricreano Quindi Ti dà la possibilità Dei salire di livello proprio veloce Che arma Ah E' molto silenziosa Da sparare Ma scusa Ma se miro Scompare il mirino Io do Ho visto Perfetto Sai come corri veloci Con le armi pesanti In mano Senza io non ho Nessuna abilità ancora Per la porta Cioè so forte Ma non ho abilità Per portarmi pesanti In modo leggero Sul 4 Andai molto più lento Akiko Hanno detto Che stanno a fare una festa Da fuori C'è stanno le bombe galle I cordinetti Eccolo pure L'uendingo Ciao chicco Vediamo fuori Che qua Ok ragazzi Fate sto girettino Poi fate pure Questi qua Con i limiti a chiamare Poi magari Se ve va Sparate pure Due corpi Che attira proprio Ciao belli Scappate State lontani Mi avvicinate Mamma mia Che c'è San bordello qua Potete capire Che situazione Lontano king Lontano Lontano Che me bughi tutto Lontano Lontano Regà Mi avvicinate Mi avvicinate L'ho detto nella live Sto a fare un glitch Andate via Ma andate lontano Proprio tanto eh Ecco Già se ne so disperse No regà Non ce la faccio Ma come fate Entrase Offline Ma spiegate sta cosa È impossibile Non riesco a fare sta cosa Ieri l'ho fatta Trenta volte Porca trattola Dovete proprio Allontanare De tanto Regà Ah Il Wendingo Come lo so perso C'è pure Uno Scheravaggio Radioattivo Lontani ragazzi Che stanno arrivando Eccoli E qualcuno Già morto Che succede Sta a combattere Coglio un guai E dai eh Ragazzi Non ti voglio Uccidere così Sprego colpi Ormai Questa tecnica Che ho scoperto Ok Se il Wendingo Ve viene a rompe Mettete per qua Altra cosa Che ho scoperto Graffaculo Allora Ancora esplode tutto Se magari Ce ne sta ancora qualcuno Mamma mia Le radiazioni Fado ancora Un altro giro Anche perché Il Wendingo Mi ha seguito Però poi si è perso Oh Troppo Sbagliato strada La troia Si finitica Ok Cercate di non salire subito Sulle macchine Perché Se no Se ne vanno Eccoli Ragazzi Per le prossime live Sì Mandatemi le richieste D'amicizia Ma non per questa Perché mo Come dicevo Almeno per la prima Auretta Di live Stato qui A vagare Questa è la prima Questa è la prima Questa è la prima Tutta morta Uno sasso Un'azbero Sgah End Sharan 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 Bonjour Bonjour Tu tant'altro Come va Ci vediamo poi domani Per la partita a tennis Delle 8 E neanche C'erano anche gli animatori Si balla e vale di gruppo Onda 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 Grandi pay follower Grazie mille Seguite mi avviso quando entro Che cazzo sei Mortacci tua Via 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 Questo era grosso Ah meno male Non riesce più a camminare Top Vedi questo ci avrebbe dato 289 punti Con una botta Ragazzi prima volta raggiungiamo il livello 30 Eram arrivati a 27 Da pc Sei ghettato Pugnale del cutista Fa da sci Da cui sci Meglio va così c'è un'arma Che cambiamo di nuovo server Comunque ragazzi ieri su Twitch abbiamo provato a scendere per la prima volta nel sito Charlie Per lanciare la testata nucleare Siamo stati attaccati da un'orda di robot Ma oggi ci riproveremo quindi vi consiglio di seguirmi su Twitch Il link lo trovate in descrizione o nei top commenti Ecco Venga un attimo che vedremo un attimo Ah rega stiamo a scendere Non c'è credo Cioè questo è il secondo a lanciare la testata nucleare A livello indie Pippa come so Allora c'è qualcosa che non torna Sto solo scendendo ma non lo posso lanciare Mannaggia a me Che mi sono messo a fare i video Dovevo solo giocare Eccolo I robot se non c'è Emo ci sparano Io non ho capito Cioè entro dentro e Devo aspettare un po' Ah ok Oh oh mi stanno ammazzare Che è la camera di suicidi del Futurama Ok ora la testa La 38 posizione Mi ha rimosso Dati biometrici aggiunto Soffri di vermi radioattivi Vabbè Ok si sono riattivati i robot Siamo solo riusciti a trovare questo Poi ci servirebbe una tessera vuota E stiamo a... Oddio Rega l'hiamo trovata L'hiamo trovata Oddio C'è mo tutto per lanciare missile Non so come cazzo So come cazzo Grazie.